Il Movimento 5 Stelle con il Vice Presidente del Consiglio regionale Domenico Pettinari, primo firmatario, presenta una proposta di legge regionale per garantire ai cittadini trasparenza e meritocrazia nella nomina della dirigenza ASLA. Sarà depositata infatti martedì prossimo in Consiglio regionale la proposta di legge regionale per mettere partiti fuori dalla sanità abruzzese e garantire ai cittadini trasparenza e meritocrazia nella nomina della dirigenza ASLA. Sì, abbiamo ripetuto più volte in campagna elettorale fuori partiti dalla sanità e questo è il primo contributo legislativo che va in quel senso. Noi ci stiamo già lavorando a livello nazionale ma la Regione può fare questo. Per la nomina dei direttori generali c'è bisogno, la legge prevede che una commissione scelta dal Presidente di Regione debba andare a individuare una rosa di candidati. Ebbene, la mia proposta di legge, mi vede primo firmatario, prevede che i membri di questa commissione esaminatrice che sceglie il direttore generale, non devono aver riportato condanne anche noi in via definitiva per reati contro pubblica amministrazione, non devono aver percepito o avere rapporti professionali con le ASL, non devono perseguire attività in contrasto con i principi del servizio sanitario nazionale, non devono aver svolto nei dieci anni precedenti incarichi politici, non devono aver fatto un carico di commissario per più di due mandati. Ecco, queste sono norme strincendi, requisiti e criteri che andrebbero veramente a mettere a blindare la commissione esaminatrice, perché se noi vogliamo appunto che i direttori generali vengano scelti secondo criteri di meritocrazia e trasparenza, dobbiamo anche prevedere che la commissione esaminatrice venga scelta secondo criteri di meritocrazia e trasparenza. L'importanza della proposta di legge regionale è stata ribadita anche dalla consigliera pentasellata Barbara Stella.